Come state? Come va? Come va? Un saluto a tutti e ben ritrovati. Una buona giornata da Milanello, la casa dei milanisti su YouTube. Mi raccomando, se siete milanisti, iscrivetevi qui, commentate, partecipate e lasciate un like. Il format Milanello risponde, rispondiamo alle vostre domande, ma andiamo su un terreno molto, molto, molto particolare. Partiamo subito intanto con la prima domanda di Roberto. Qual è il momento del borsino per il difensore centrale, ovvero quello che ha più possibilità di arrivare? Questa è una bella domanda. Non è facile rispondere, perché il preferito è Kelly del Bournemouth, 25 anni, inglese, scadenza 2024, ma il club inglese al momento non lo vuole far partire, quindi è disposto a perderlo a zero. Quindi o se ne riparerà verso l'estate a parametro zero, oppure non se ne riparerà più. Però al momento si complica un po'. Per quanto riguarda il ruolo di difensore, c'è Cugliarakis, che però costa più di 10-11 milioni, profilo greco che piace, ma non ha quelle cifre sicuramente. Per il resto, insomma, si va avanti a guardare. C'è un profilo del Basilea, ci sono anche questo Van Bremen, del quale adesso vi racconto. C'è anche, ieri vi dicevo, non ho conferma al momento su un giocatore, nel frattempo ieri sera qualcosina ho raccolto. Ecco, Van Bremen, difensore del Basilea, alto 1-93, olandese, difensore centrale di 20 anni. Quest'anno ha fatto 10 partite un gol e un assist nel suo campionato. È un under-21 olandese. Quindi si guarda ai profili alti, strutturati, possibilmente piede mancino. Ieri sera mi dicono, guarda che effettivamente c'è questo interesse per un giocatore italiano, Alessandro Marcandalli, 21 anni, nato a Bergamo, italiano. Che bello sentire i Minansuni, italiano, serve lo zocco duro di italiani. Lui, in prestito, la Reggiane è del Genoa e sta giocando in Serie B, sta facendo molto bene. 12 presenze, piace agli scouting rossoneri. In particolare, appunto, c'è il giudizio positivo di Moncada. È un rebus al momento, quindi è difficile rispondere alla tua domanda, però abbiamo fatto un po' una panoramica. E poi, un'altra domanda. Vediamo, poi qualcuno era pre-partita o qualcuno a post, con il rientro di Ben Nasser, che vedresti meglio al centrocampo. Ma io vedrei che bisogna giocare con il 4-2-3-1. Loftus cicla davanti, poi dietro Reinders-Ben Nasser, Reinders-Moussa, si possono alternare, farei questi 4 però. Però Ben Nasser, vediamo quando rientra, poi c'è forse la Coppa d'Africa, forse va. Secondo me sarà a regime verso febbraio, magari anche marzo. E poi, a inizio stagione, certe persone facevano i fenomeni per i tre rigori dati in campionato al Milan, e adesso per l'Inter non si dice niente, visto che fino ad anno hanno avuto sette rigori. Nel frattempo sono otto a favore tra i campionati Champions. Hai ragione, nessuno come loro in Europa. Viaggiano una media incredibile di calci di rigore. E a differenza di quando noi avevamo tanti, in quel campionato famoso soltanto uno, non c'era quello con la Roma, nella stessa gara però fu fiscato un fallo da rigore contro Ben Nasser, quando aveva subito lui fallo, questa volta qualche rigore molto discutibile, vedi quello dato l'altro giorno a Turam, quel frosinone scandaloso. E poi, vediamo ancora, siete tantissimi a fare domande. Alcuni youtuber dicono che Teo e Mignano hanno chiesto la cessione già a gennaio, e l'eo sarà sicuramente venduto a giugno. Chiudiamo tutto, ragazzi, distinguete sempre la fonte. Distinguete sempre la fonte, ribadisco. Il mio suggerimento è di seguire con più attenzione magari chi lo fa di mestiere, chi è giornalista come sottoscritto, come anche altri, sui discorsi di mercato. Gli altri magari sull'opinione possono starci, perché no, maggiormente. Però no, assolutamente no, non è vero. E non risulta assolutamente, poi ho rispetto per tutti. Poi, la coppia Abate e Ibra per la panchina, con Adjegnaio e Kambijovic, Zirze e Krunic e Zeroli, sei d'accordo? Ma non credo che al momento sia l'ordinario del giorno, ecco. Se parte Krunic, io spero vivamente di vedere col Pani l'anno prossimo, farei carte falsi. Dipende molto da che allenatore avremo. A me col Pani piace tantissimo, col Piaci stavo dicendo, ma davvero tanto. Va preso, spero che per una volta l'asse Gagliani-Milan possa funzionare, perché fin qui ha funzionato più l'asse Gagliani-Marotta. È un giocatore fortissimo e uno spazio al Milan lo troveremmo, più che volentieri. Vediamo chi sarà il tecnico il prossimo anno, eh. Qualcuno dice, Clarence Edolfi in panchina, con il massimo rispetto direi che abbiamo già dato. E poi ancora, su Teo Tanti, non è vero che Teo ha chiesto l'accessione, anzi, la famiglia, l'entourage, la compagna, loro vogliono rimanere a Milano. È un Teo che non è felice per tanti motivi, ma non è vero che ha chiesto l'accessione, neanche Mignan, non è vero. Da quello che risulta a me, ecco. Poi, l'attaccante più vicino che può prendere Milano a gennaio, allora, è difficile anche quei miei tre nomi. David, Lille, 24 anni a gennaio, scadenza 2025, sta giocando male. Ghirassi, Stoccarda, 27 anni, esploso, ma rischio effetto pionte, clausola 22. Adams, 24 anni a gennaio pure lui, Montpellier, nigeriano, 7 gol in 11 partite. A oggi sono questi i nomi, questi tre. Se mi dovete obbligare a puntare un euro, secondo te chi arriva a oggi, dico che secondo me potrebbe arrivare magari una chance in più rispetto agli altri, Jonathan David. Come vedi, un 4-2-3-1 con Loftus, Leao, Pulisic e David. Bene, lo vedo bene, sicuramente meglio rispetto a Jovic, così come ci presenteremo dopo la sosta. Con delle pelle filtranti, è interessante, però David non è il mio preferito, però non male. È tornato Ibra quando torna pure Maldini, dice il Gelson 91. Comunque a gennaio saremo sicuramente protagonisti del calcio mercato, con secondo me più operazioni. Adesso arrivo poi a quell'altro discorso, a quell'altro tema. Vogliamo un attaccante, ma io non voglio un attaccante, voglio un attaccante fortissimo. Vogliamo un attaccante fortissimo. Scrivetelo qui sotto anche voi. E poi vediamo. Su Zerolic, Pobega, il cambio del prossimo anno, secondo me può essere cosa buona e giusta. Pobega, rendimento discreto, lo puoi cedere, ricavi totale plus valenza, promuovi Zeroli, che secondo me è una stoffa superiore, più pregiata, e ha i soldi da destinare. Ecco, un altro nome che mi vuole prendere a gennaio, perché Moncada è letteralmente scatenato in questo momento, è Owe Traoco, che è il 17-18 anni di farà a gennaio, dello Schalke 04 centrocampista, che è una clausola da 12 milioni di euro, e viene ritenuto il nuovo Yaya Toure, un giocatore che è destinato a diventare fortissimo. C'è concorrenza, ma il Milan ha tanti, tanti, tanti dossier aperti, così come Juan Miranda, al più tardi a giugno, se non già a gennaio. È chiaro che non si può fare, difensore, centrocampista, attaccante, terzino, tutto a gennaio. È ovvio. Però, magari qualcosa riesce a farlo in prestito, magari c'è un diritto di riscatto, magari ne fai tre, non ne fai quattro. Però Mina vuole essere grande protagonista del mercato di gennaio. Si sta lavorando già molto intensamente da settimane, e ormai tra un mese e mezzo ci siamo. Tra un mese e mezzo, io mi aspetto che si saprà già il nome del difensore, che è la priorità a livello strutturale. Ne abbiamo necessità. Una promozione di Ibra in quel ruolo corrisponde a una delusione da parte della dirigenza nei confronti di Pioli? Magari il ruolo da manager all'inglese era troppo per lui. Sicuramente c'è quello, ma sicuramente c'è anche, quello che noi dicevamo dall'estate, la consapevolezza che manca una figura un po' di campo. Il vuoto che ha lasciato Maldini, da quel punto di vista, è evidente. Lo spessore, la riconoscibilità, l'appeal, l'ascendente sui giocatori che aveva Maldini, lo avrà con un ruolo però diverso ancora da configurare Zlatan Ibrahimović. È chiaro che se oggi fossimo prima in classifica, senza problemi, con un Pioli straordinario, on fire, Ibra, secondo me, oggi non sarebbe arrivato. È evidente. Tra l'altro la festa del 10 dicembre di Milanello, al fil di Serenio, all'ora 19, ingresso 15 euro con mangiare e bere, sto pensando, negli anni scorsi cantavo Pioli is on fire, oggi? Ancora Pioli is on fire? O Mila is on fire? O non cantiamo proprio nulla? Iniziatemi già a dire qui sotto. Dopodiché parto da tanti messaggi che mi avete scritto ieri, ma anche da una frase che già la scorsa settimana mi aveva illuminato. A dirla, Mauro Bianchessi, ex dirigente del settore giovanile rossonero, bravissimo, cacciato, purtroppo, dallo sciagurato 2, e fassone Mirabelli. Lui aveva detto una cosa che mi ha molto colpito, che riguarda Francesco Camarda, il nostro baby prodigio, 15 anni, nato a Milano, milanese, milanista, punta centrale dell'Under-19, che quando avrà 16 anni, il 10 marzo, potrà firmare un contratto di 3 anni. Lui quest'anno sta facendo cose straordinarie. 4 gol in 6 partite di Under-17 italiana, lui 15 anni, un gol nel campionato primavera, 3 in Coppa Primavera, 3 in Newt League, l'ultima in una rovesciata pazzesca, ha fatto anche un assist. Stagione con la primavera, quindi con giocatori di 3 anni in più, 12 partite, 7 gol e 1 assi, su una rete ogni 88 minuti, quindi un gol a partita. Bianchessi, che evidentemente di giovani ne sa, più di me e più di noi tutti, credo, che cosa ha detto? Io sono convinto, senza, la domanda era, ai colleghi di Milano News, ti aspetti una svolta decisiva nel proseguo della stagione del diavolo, quindi in generale, lui, che è uno dei massimi esperti, dice, non ho mai dubitato in questa settimana il valore di questa squadra dei pioli, un peccato sono i tanti infortuni, e poi, però il Milano ha carte sotto tavola da giocarsi, sotto tavola da giocarsi, quindi nascoste, io sono convinto, per esempio, che in questa stagione ci sarà spazio per Camarda, secondo me è pronto per esordire in Serie A, non lo dico io, non lo dice il suo entourage, lo dice Mauro Bianchessi, un dirigente sportivo di settori giovanili fantastico, per me è uno dei migliori in circolazione che rimpiango, lui dice, è pronto per esordire in Serie A, questo prima delle note vicende della squalifica di Giroud, noi dopo la sosta ci presenteremo contro la Fiorentina, ad esempio, senza Leao e senza Giroud, quindi abbiamo Ciukhez, Pulisic, Okafor e Jovic, ok? Se Okafor gioca a sinistra e Pulisic a destra e Ciukhez va in panchina abbiamo soltanto Jovic e io dico, come di voi me l'ha anche scritto sono estremamente d'accordo, dico che è arrivato quel momento, dico che bisogna portare in panchina con la Fiorentina il nostro Francesco Camarda. Lo dico, accetterò pareri diversi, però qui non è questione di lasciatelo tranquillo, no, è questione di necessità. Come portiamo Simic quando serve? Adesso il numero 9 è una situazione di incredibile emergenza e quindi dobbiamo portare Francesco Camarda e se serve lo facciamo anche esordire. Qui non si brucia un giocatore, attenzione, non è da questi particolari che si giudica un giovane dovesse entrare e fare 15 minuti insipidi, non è da quel momento che deve dare la risposta. Non si giudica da quello, intanto fa uno step mentale, sarebbe un record incredibile, una valorizzazione che lo legherebbe ulteriormente al Milan anche in chiave rinnovo. Quindi non può uscire nulla di negativo da quell'eventuale dieci minuti se serve, può soltanto uscire qualcosa di positivo. Possiamo toccare con mano un giocatore che rispetto a sue parità è un extraterrestre e se uno come Bianchè si dice prima ancora di sapere che ci sarebbe stata emergenza sui figli di Giroud mi aspetto che possa esordire allora io mi aspetto di portarlo contro la Fiorentina di lasciarlo in panchina ma se Jovic che a oggi siamo a metà novembre non ha fatto neanche un tiro in porta va male proviamo con lui ricordo Paloschi che segnò dopo poco tempo poi non ha avuto una carriera straordinaria se a Jovic viene un raffreddore durante la partita va bene metti Ocaforo ok però in questo momento che perdiamo due giocatori a partita bisogna stare attenti quindi per me in panchina deve andare e sono anch'io convinto che nella stagione 23-24 questa lui esordirà sarà subito sarà prima ancora del rinnovo del contratto lo vedremo però forse è arrivato il suo momento qui non è questione di bruciare è questione di necessità e delle volte da situazioni di necessità scopri di avere in carta in casa una carta nascosta come ha detto Bianchessi ripeto non vedo effetti collaterali non si può bruciare se anche fa male è più grave che abbia fatto male a Jovic non un 15enne quindi ha tutte le scusanti del caso ha tutto da guadagnare abbiamo tutto da guadagnare se serve per me è arrivato il suo momento che ne pensate scatenatevi con i commenti qui sotto mi raccomando leggerò i vostri commenti sempre con civiltà e rispetto anche se non la pensate come me ci può stare lasciate un bel like se la pensate come me iscrivetevi qui e io dico proviamoci un saluto grazie a tutti